Eccoci con un nuovo video, aspettate che fermo la telecamera Ok, penso si veda tutto Beh, porto sempre con me dietro l'action cam Ho deciso quindi di accenderla per mostrarvi quello che sto facendo Spero si veda tutto, ma soprattutto perché voglio parlarvi di questa lampada Lampada della Zecala 39120 È appena arrivata in laboratorio e quindi ho deciso di sfruttarla subito Beh, come avrete intuito mi occupo di manutenzione generale In questo momento sono all'interno del vano di Unuta Una macchina unità trattamento aria In sostanza un grosso gruppo condizionatore Per utilizzare dei termini, come dire, comprensibili da tutti Mi occupo di manutenzione E in questo momento ho appena finito di cambiare le cinghie che si erano rotte Che sto mettendo in tensione, appunto, le cinghie Devo dirvi che la luce è decisamente tanta Spero si riesce a vedere Come vedete, la luce è sicuramente tanta Adesso ci spostiamo in laboratorio Ok, eccoci quindi qui in laboratorio Continuo i video inerenti al settore professionale Come vedete qui siamo nel mio laboratorio Eccola qui la lampada che avete visto nell'introduzione Spero il video sia abbastanza chiaro Come avete visto l'ho registrato con l'action cam Perché è decisamente compatta E si può quindi portare con facilità in giro Ma a bando alle ciance parliamo di questa lampada Come vi ho detto la Zecala 39120 Andiamo quindi a vedere le caratteristiche da più vicino Vicino quindi alla telecamera Anche se è la cosa assolutamente svalorditiva di questa lampada È assolutamente il fatto che, come dire Possiamo orientarla come vogliamo In qualsiasi direzione La base calamitata, come avete visto nell'introduzione Permette di ancorarla dove vogliamo E ancora i ganci, sia sotto che sopra Permettono di ancorarla dove vogliamo Ancora qui sotto troviamo la base per poter Bando alle ciance Avvicino la telecamera e vi mostro tutto da più vicino Eccola qui abbiamo detto Zecala 39120 Lampada portatile SMD Sulla parte laterale della scatola Troviamo come dire tutte le funzioni Quindi la snodabilità di questa lampada Mentre dall'altro lato troviamo i 3W Quindi la potenza LED di questa lampada I lux, i lumene scusate che sono 230 La possibilità di avere una calamita e un gancio Ancora troviamo la batteria da 3.7V Giustamente a litio da 2200mAh Tempo di ricarica 2 ore e mezza Per giustamente 4 ore di utilizzo Beh che dire, vado a tirarla fuori Così la vediamo realmente questa lampada Da più vicino Tolgo quindi la scatola Togliamo quindi la parte in cartone superiore Così da tirare subito fuori la lampada Eccola qui Vi mostro subito come avete visto La base calamitata Ancora la base di ricarica Che dietro presenta la possibilità Di essere installata con dei tasselli Ad esempio al muro o in qualsiasi altra parte Troviamo ancora il caricatore compresa USB E giustamente il libretto di istruzioni Spostiamo la scatola e andiamo quindi a vedere La lampada da più vicino Come avete visto qui sul banco Ho un cavalletto per macchine fotografiche Perché sotto la lampada È presente un filetto fotografico Quindi possiamo tranquillamente andare a montare Come ho detto Un cavalletto fotografico Così da andare ad illuminare Magari anche le nostre riprese Se non, come dire Vogliamo utilizzarla direttamente Nella nostra officina Accendiamo quindi la lampada Spero si noti la differenza Giustamente in questo momento C'è l'illuminazione supplementare Per registrare il video Tenendo premuto il pulsante nella parte posteriore Si può andare ad abbassare la luminosità O giustamente a spegnere la lampada Possiamo come vi ho detto prima Andare a snodare come vogliamo la lampada Gira assolutamente a 360 gradi Andiamo a smontare il cavalletto Così vi posso mostrare la possibilità Di utilizzare appunto i due ganci Quello sotto e ancora quello sopra Così facendo possiamo ad esempio montarlo Montare la lampada in questo modo qui O semplicemente agganciarlo Dalla parte superiore O dalla parte inferiore A questo punto, beh, che dire Sono infinite le possibilità di utilizzo Giustamente possiamo andare Come vi ho detto prima A sfruttare la base calamitata Come io ho fatto nell'inizio del video Beh, che dire La leggerezza di questa lampada È sostanziale Anche perché giustamente Nel momento in cui Dobbiamo magari andarla ad attaccare Con la base calamitata È necessario che non sia troppo pesante Le dimensioni di questa lampada Sono di 25 centimetri e mezzo Per una larghezza di 4,5 Fino a stringersi a 3 centimetri La snodabilità è una roba Come vi ho detto Pazzesca E lo è anche la comodità Beh, che dire Io vado a mettere La lampada direttamente in carica Grazie alla presa USB Ok, abbiamo quindi visto da più vicino questa lampada Spero che questo video vi sia piaciuto Vi ricordo quindi di iscrivervi al canale Per rimanere aggiornati Sui prossimi video che usciranno Tra tutorial, progetti e recensioni Di articoli per il settore professionale Non solo Vi ricordo quindi Se il video vi è piaciuto Che potete anche condividerlo Per aiutarmi a far crescere il canale Vi ricordo della pagina Facebook Così riuscirete con più facilità A condividere il video Perché ci penserò prima io a condividerlo E a voi non servirà nient'altro Che fare il semplice click su condividi Beh, che dire Non mi resta che salutarvi E ricordarvi quindi Di iscrivervi a tutti i miei social Ciao, alla prossima